buonasera dal tg1 la visita del presidente francese a roma con l'italia amicizia indistruttibile ha detto macron incontrando il premier conte fra i temi i migranti intesa sulla gestione efficace dei flussi coordinata dalla commissione europea sentiamo roberto chinzari una fortissima sintonia conte e macron attarteggiano quella che definiscono un'amicizia indistruttibile tra italia e francia dalla stessa parte quando si parla di migranti di libia di economia i temi sul tavolo per niente scontato visto gli attriti del recente passato insieme per essere i pilastri di un'europa che però deve cambiare l'occasione per farlo sottolinea il presidente del consiglio la nuova commissione crescita economica maggiore occupazione più coesione sicurezza sociale per i cittadini più solidarietà e rispetto dell'ambiente i punti del rilancio che il presidente francese condivide chiede di sostenere gli investimenti ed elogia il lavoro di draghi poi c'è la questione migranti è essenziale per l'europa che volti pagina in direzione di una gestione strutturale non più emergenziale dei flussi migratori l'italia lo ha sempre chiesto con la massima coerenza dobbiamo far uscire il tema migratorio dalla propaganda l'italia continua non abbassa la guardia contro i trafficanti di vite umane serve un meccanismo europeo su sbarchi redistribuzione gestione efficace dei rimpatri macrona concorda l'europa deve affrontare il problema con umanità solidarietà efficace possibile un accordo su un meccanismo automatico di ripartizione gestito dalla commissione perché tutti i paesi partecipino a questa solidarietà spiega oppure siano penalizzati finanziariamente per Conte si tratta di un'apertura senza precedenti convergenza anche sul tema Libia coinvolgendo i partner internazionali per un'azione politica di stabilizzazione in precedenza l'incontro a Chigi con il leader di Tripoli al Serraji